Ed eccoci qui ragazzi e ragazze, come sempre in compagnia del vostro Diablotex, per continuare su Vision of Mana in versione PlayStation 5. Io adesso direi che senza perdere tempo andremo avanti, vediamo un po' cosa ci sarà da fare. Qui abbiamo dei lupacchiotti, dei lupetti, quindi sono molto molto belli, ma adesso bisogna proseguire verso la missione principale. Vediamo un attimino qui, eh? Molto molto bene. Fermi tutti. E insomma, qui abbiamo un'altra zona... Sembrerebbe dove siamo già comunque stati, perché la mappa già risulta esplorata, quindi magari siamo in un'altra direzione, ma vabbè, comunque andiamo adesso, non è un problema. Noi andiamo, ci divertiremo, come sempre, regolare, quindi... Noi andiamo, non è un'altra zona, non è un'altra zona, non è un'altra zona. Non è un'altra zona, non è un'altra zona, non è un'altra zona. Noi andiamo, non è un'altra zona. E te la na. E te la na. Grazie a tutti. molto molto bene ragazzi allora fermi tutti un attimino fermi tutti un attimino non posso andare da questa parte ok vabbè per il momento non posso cambiare destinazione quindi sono obbligato ad andare qui per il momento quindi vedremo più avanti se magari sarà possibile che ... Cosa c'è? C'è un passaggio. C'è un passaggio. Ma... quando c'è l'anno prossimo? C'è l'anno 15 giorni. Questa è molto lunga. Non c'è nessun modo. È il giorno. Quando c'è l'anno prossimo, potete entrare nel prossimo giorno. Quando c'è un passaggio, potete entrare nel prossimo giorno. Seguirebbe, appena sono arrivato a quest'anno. Il tempo però è ancora tutta la prima volta. Che sono diventati anche a tutte le prezzie. Non c'è nessuno che non c'è nessuno, non c'è nessuno. È un passaggio, non c'è nulla. È un passaggio, ma è un passaggio. Quindi non posso dare un passaggio? Grazie a tutti Molto molto bene ragazzi Allora qualcuno Credo si sia unito nel mio party Io dico qualcuno ragazzi Ma voi sapete benissimo Di chi sto parlando Allora fermi tutti diamo un'occhiata Fermi Perfetto ragazzi Vediamo un po' Molto molto bene Anche lui di livello 9 Giustamente Ora credo che possiamo andare Nell'altra destinazione Nell'altra destinazione Adesso credo che Che posso veramente andare Credo poi bisogna vedere e capire Ma non ho altre Ah devo tornare lì Non posso ancora Ma siamo seri? Non posso ancora andare qui ragazzi Vabbè siamo seri Quindi dove si va adesso? Sicuramente adesso siamo avvantaggiati Qui nel combattere Perché siamo in tre Quindi Con un nuovo membro Nel nostro gruppo Nel mio gruppo Le battaglie adesso saranno Molto più belle da affrontare No? Credo Credo che siano molto molto più belle Dove si va? Vediamo un attimino Ah Abbiamo più di una destinazione Più di una Va bene Proviamo a fare uno scontro Giusto per capire Un attimino qui La potenza Del mio famigerato gruppo Diciamo Vediamo un po' Vediamo un po' Ok Allora Vediamo un po' Qui Perfetto Quindi andiamo verso Questa direzione qui E lo so ragazzi Bisogna andare Bisogna raggiungere Tutte Le stelle E lo so Indicano La strada principale Quindi Ci saranno delle cose Da fare In queste Fantomatiche Destinità Destinazioni No? Quindi Devo solo dare un'occhiata Poi magari Ecco Questi qui Sono di livello 8 Quindi non credo che A livello di punti esperienza Ci tratteranno Ci tratteranno molto molto bene Adesso lo scopriremo Comunque Non è un problema Non è assolutamente un problema Allora Si prosegue da questa parte Si prosegue Recuperiamo Recuperiamo Quello che possiamo Recuperare Per quanto riguarda L'energia Giustamente Allora Qui adesso posso E qui abbiamo Un bel giro Da fare Andiamo avanti Non perdiamo tempo Vabbè Non perdiamo tempo Poi ogni tanto Vedo Qualche nemico E mi fermo Per assecondare La loro La loro fine Però Vedete benissimo Che qui sono pochi punti Esperienza Quindi perdere questo tempo Per Due miseri punti Lo capite anche voi Che non credo sia il caso Insomma Ecco Andiamo Perfetto ragazzi Perfetto Molto molto bene Abbiamo fatto tutto Molto probabilmente Si Molto probabilmente Si Te же Perfetto C'è anche il clajamento... C'è? Ci sono la finestra del passaggio... A questo è il rischio che si chiama il passaggio. Qua si fa meglio il passaggio? D'accordo? Oddio! Perfetto! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un attimino. Ok, via. Spostamento rapido, così siamo subito nella zona... Siamo tornati nella zona dove... Bisogna proseguire, ma io non posso ancora accedere... Ancora non posso accedere qui, ragazzi, eh. Attenzione. Via un po'. Eh no, eh no. Ok, ok. Va molto, molto bene, va molto, molto bene, sì. Insomma... Vediamo se andrà bene così. Grazie a tutti. No, no, no. No, no. Sì? Ho venuto... ...suskia il momento... ...suskia il momento! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questo si unisce e poi va via immediatamente. Vabbè, comunque. Comunque. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Saranno due forzieri. Non credo ci sia qualcosa in più, eh? Poi andremo verso la stella lì che ci indica, insomma, la destinazione principale. Poi andremo a parlare. Adesso non è che ho tanta voglia di fare queste chiacchiere. Vorrei andare un attimino avanti, allora. Ah, non posso passare. Sono costretto ad andare prima qui, ragazzi. Purtroppo. 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 No La mamma! I voci! Quanto farò? Oh… Che cosa ci sono? Capvere la metà? Che cosa per ilasco? Idete aprire... Non si... come si è vero? Molto di chiama, che si è riuscito... Ma, ora mi vedete! Tu non avevi mai visto? Noi non... Noi non vedete il pomaggio... Nel potere il potere il potere le cose del mio. Ma... Il potere il pomaggio... No, 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 no. No, 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 no. Hmm. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quindi resterò in silenzio e me ne farò una ragione, quindi va bene così, insomma. Diciamo che va bene così. VARU, TAMASI NO MORRIBITO. TAMASI NO MORRIBITO. Molto, molto bene. R2, vediamo. Stiamo tranquilli, eh? Da un punto di vista, dall'altro, insomma. Da un punto di vista, poi vedremo dall'altro. Dove va da solo quello? Ma dove va? Ma dove devi andare? Allora, vabbè, 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 non è neanche troppo distante, quindi... Siamo quasi arrivati, non ho ben capito cos'è tutta questa fretta che portava, però lo scopriremo tra non molto... Tra non molto, scopriremo la sua fretta, qual era, insomma. Eccoci qui. Eccoci qui. Eccoci qui. Eccoci qui, ma che su chiudere nel caso da ossi taccino motoriano tannini su chi no se l'emozzi cara o casse credo da da gioco però vedremo la nuova tecnica è la nuova tecnica ragazzi adesso ritorna nel party questo va via ritorna fa quello che vuole ragazzi e non è un problema fa quello che vuole fa quello che vuole lui non dovrebbe essere così però però vabbè che sono nemici di livello 8 quindi nulla di impegnativo ragazzi nulla di impegnativo tutto sotto tutto sotto estremo controllo è fermi tutti via tutto sotto estremo controllo si fantastico fantastico qui abbiamo un nemico diciamo speciale ma adesso adesso non sarà più tanto speciale perché lo saluteremo a breve lo saluteremo a breve infatti e infatti attraverso Grazie a tutti. 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 Fantastico. Possiamo iniziare a prendere... Fermi un attimo. E qui? Fermi un attimo prima di andare avanti, eh? E no, fermi ragazzi. Prima di... Prima di proseguire. Qui ho visto che abbiamo... Ho visto che abbiamo qualcos'altro da prendere, sì. Sembra, eh? E infatti... Ma non credo che qui riusciremo a fare la missione, eh? Proviamo, ma... Non credo che riusciremo nell'impresa, ragazzi, eh? Non credo minimamente. Non credo. Siamo solo in due, quindi... Credo di aver sbagliato, eh? Credo di aver azzardato un po' troppo la situazione qui. Comunque... Oramai stiamo provando, quindi... Conviene... Mmm... Sono troppi nemici, no? Ne sono troppi... Eh sì. Ne sono troppi. Sono veramente troppi nemici qui, ragazzi. Eh no. Non è il momento di fare queste cose, eh? Non è assolutamente il momento di fare... Determinate... Cose. Non abbiamo la potenza giusta. Eh vabbè. Diciamo che io... Vado sempre molto esaltato nel fare certe missioni, poi... Mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Eh vabbè, è andata. È andata male. Ah no, vabbè. Sì, vabbè. Resta lui, ma... Oramai solo con lui... No, vabbè. Non è il momento di fare queste missioni, quindi... Punto. Non è il momento. Eh vabbè, lo so che ho fallito. Ma io lo sapevo che fallivo, quindi... L'ho detto in tempi... Allora, vediamo un attimino. Via. Andiamo fin qui. Con il nostro super viaggio. Andremo avanti giusto un altro po', ragazzi. E poi... Chiuderemo questo gameplay, eh. Andremo avanti giusto... Quel tantino che basta, insomma. Quel tantino che basta. Quel tantino che occorre. Fermi. Allora, ragazzi. Io adesso chiuderò qui... Il vostro Diabrotex. Vediamo un po' se recuperiamo un po' tutto, è certo. Allora, ragazzi. Il vostro Diabrotex. Chiude qui un altro episodio per quanto riguarda Vision of Mana in versione PlayStation 5. Tranquilli. Andremo avanti molto spediti su questo titolo. Vi ringrazio di cuore a tutti per dare supporto anche a questa serie. I gameplay, i prossimi gameplay non tarderanno ad arrivare su Vision of Mana. Quindi vi ricordo, come sempre, se vi farà piacere di lasciare un like, un commento, condividere il gameplay e di iscrivervi sul mio canale YouTube. Detto questo, grazie di cuore a tutti e appuntamento ad un prossimo episodio che, promesso, arriverà molto, molto presto. Ciao a tutti, ragazzi, e alla prossima.